Benvenuti a Tu per Tu, il viaggio introspettivo attraverso le parole dei miei ospiti. Animali, bestie, creature che mancano della parte razionale, esseri viventi dotati di sensitività e di movimento che costituiscono una delle tre grandi divisioni della storia naturale, regno animale, regno vegetale e regno minerale. La differenza tra esseri viventi e esseri non viventi è palese ed è rappresentata soprattutto dal movimento che può essere incluso anche nel metabolismo e nella crescita. Il discorso potrebbe andare avanti all'infinito ma preferisco fermarmi qua. Ho voluto fare questa piccola premessa per introdurre l'argomento di oggi ma soprattutto l'ospite che ne parlerà in maniera più approfondita perché gli animali e le bestie fanno parte della sua vita. L'impegno a livello mediatico nella prevenzione del mattrattamento degli animali e nella salvaguardia degli stessi lo rende unico nel suo genere. Agisce in nome e per conto della OIPA, acronimo di organizzazione internazionale e prevenzione animali e vive in maniera davvero esclusiva questa missione. E' qui con noi oggi Enrico Piacenza. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao, ciao. Allora cominciamo subito con una domanda improvvisa. Enrico Piacenza, coordinatore regionale della OIPA. Questo incarico, un grande incarico, una grande responsabilità a fronte degli impegni che quotidianamente ti trovi a dover frotteggiare. Parlami di questo incarico. Allora, prima di tutto il mio incarico è l'incarico regionale, quindi come responsabile regionale di tutti i nuclei del Piemonte delle Guardie. Tengo a precisare che il mio non è un lavoro, io sono un volontario, lavoro in un'altra azienda e questo ho messo a disposizione il mio tempo, il mio tempo libero, alla tutela, come hai detto giustamente tu prima, degli animali. A titolo gratuito e a titolo volontario. Questo l'ho preciso perché purtroppo tante volte le persone possono confondere che noi... Tendono comunque a confondere una cosa piuttosto che un'altra, quindi è importante. Io lavoro in un'azienda pubblica e il mio tempo libero lo dedico a questa missione, passione, che ho ormai da oltre 25 anni. Perfetto. Parlaci un po' della OIPA, come è impegnata a livello mediatico, che cosa fa nello specifico e ovviamente le varie branche che ricopre all'interno di questa organizzazione. Beh, allora, l'organizzazione, io posso parlare naturalmente soprattutto per il Piemonte perché è la mia regione, però posso dire che l'OIPA ha 80 sezioni, 70 passa nuclei, siamo anche nel campo internazionale, infatti esiste OPE Camerun, collaboriamo anche nel Paese dell'Est, qui abbiamo OIPA Capoverde, quindi abbiamo ramificato un po' internazionale. Naturalmente io partengo a OIPA Italia e nello specifico a OIPA Piemonte, perché questo è il mio ruolo che mi ricopre. Sicuramente su quello che riguarda la parte nazionale, internazionale, diciamo lo so perché leggo naturalmente le nostre newsletter, nello specifico però rimarrei nell'ambito del nostro drammiaregione, che in questo momento sto coordinando a livello di sei nuclei precisamente e sono Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, Verbania, Asti e siamo di prossima apertura a Novara, appena gli allievi questo corso che è iniziato, finiranno, avremo anche il nucleo di Novara. Quindi un impegno e una presenza capillare sul territorio, ma in tutta la regione. In tutta la regione, naturalmente deve essere molto costante, sia l'impegno delle guardie che anche loro essendo volontari, poverini nel loro tempo libero fanno questa attività e soprattutto dei coordinatori provinciali che sono i primi che seguono le guardie e il mio che poi alla fine faccio da riferimento, data anche l'esperienza che ho, faccio da riferimento a tutta la regione e al coordinamento nazionale. Un incarico molto, molto importante che ti porta via del tempo a livello privato, passami il tempo. Tutto il mio tempo. Immagino. Tutto il mio tempo. Quindi questo con delle ripercussioni abbastanza seri su quello che è la vita privata. Fortunatamente non sono sposato. Ho fatto questa scelta. Lo ha specificato, fortunatamente. No, fortunatamente non sono sposato, ho fatto questa scelta, fortunatamente, ma non per me, per la persona che mi sarebbe stata accanto che avrebbe visto un fantasma, non un marito o un compagno, ma un fantasma. Allora dico, fortunatamente per le persone che non sono state con me, non sono sposate. E' stato un atto d'amore anche questo? Verso gli animali soprattutto, verso le persone, verso le persone che potevano stare con me e verso gli animali. Ho fatto una scelta di volontariato, oltretutto noi siamo anche poi con le nuove leggi nazionali, inclusi nella protezione civile degli animali. Io personalmente ho già fatto nel 2016 tutte le zone dell'Abruzzo, di Amatrice, per la tutela degli animali in quelle zone. Un impegno a livello sociale anche dell'OIPA che si occupa anche di protezione civile, dicevamo. Sì, rimarchiamolo. Rimarchiamolo di protezione civile, quindi dietro agli animali, poi questo anche per esperienza personale, si aiutano molto le persone, perché c'è lo step dell'animale e poi arrivi alle persone, quindi noi collaboriamo con assistenti sociali, altre associazioni di volontariato che si occupano di persone e giusto nelle zone tramontate eravamo noi i Vigili del Fuoco. Quindi nel 2016 sono andato giù tre volte con le mie ferie personali e ripeto, non essendo sposato, potevo partire dal mattino alla sera, potevo decidere di andare a prestare la mia opera in soccorso. Sicuramente questa cosa ti fa molto molto onore, certo. Onore al merito, come posso dire. Chiedo scusa, questo fa parte della diretta, quindi ritorniamo in noi. Onore al merito, perché questo naturalmente conferisce ancora più valore aggiunto all'impegno che dai. Sì, io lo faccio per passione, perché credo in quello che faccio. Gli onori li lascio volentieri a terzi. Un incarico importante, dicevamo, ma anche un rischio di base elevato, correggimi se sbaglio, proprio nell'affrontare alcune situazioni non troppo semplici. Il rischio c'è, perché possiamo controllare la persona che è calma e tranquilla, che non ha nulla da nascondere, da eccepire, per cui si chiude, tra virgolette, il servizio, quindi la segnalazione è così. A volte, ma ripeto questo sempre nella mia ventennale e oltre esperienza, ci sono situazioni che possono essere sia in città che in zone rurali. Non diamo la, diciamo la zona rurale è più cattiva, la città è più buona. No, nello stesso modo sia in città alla zona rurale a tante volte non si sa mai che hai di fronte e quindi devi avere gli accorgimenti e dell'esperienza di dire faccio un passo indietro, vado avanti, ma il passo indietro non vuol dire che scappo, il passo indietro vuol dire chiamo che la forza dell'ordine, con cui noi collaboriamo benissimo, abbiamo tutto un lavoro, una collaborazione stupenda, voi fate ordine pubblico noi facciamo il nostro lavoro per quello che è la tutela dell'animale, quindi il rispetto delle leggi, sia in campo amministrativo che in campo penale. Adesso qui specifico io una cosa, perché noi avendo un decreto prefettizio abbiamo la qualifica di pubblici ufficiali e tutte le competenze del caso, in base alla legge 189 del 2004, articolo 6,2, le funzioni di polizia giudiziaria qualora ci trovassimo di fronte a un reato. Quindi in questo caso ne facciamo quello che riguarda gli animali e le forze dell'ordine che ringrazierò sempre, ringrazierò sempre ed estimo tantissimo, fanno il lavoro di ordine pubblico. Un impegno anche a livello didattico, tra virgolette, per riuscire ad acquisire determinate competenze in ambito amministrativo e giuridico. Noi infatti facciamo un corso che è minimo di sei mesi, il corso in questo momento, visto che lo facciamo sempre su base ragionale e online, però i coordinatori provinciali o il coordinatore regionale sono quelli che poi seguono proprio le persone, gli allievi, come li chiamo io, gli allievi li seguono la loro formazione step by step, quindi ci rechiamo sul posto, prendiamo gli allievi, gli facciamo le lezioni, devono fare tre test intermedi e un test finale e noi li seguiamo in questo loro percorso. Questo è il percorso didattico. Il percorso successivo, che è quello proprio dell'abilitazione al servizio, quindi al contatto con la gente e con i servizi, i coordinatori regionali e il coordinatore regionale e i coordinatori provinciali naturalmente sono quelli che li affiancono i nuovi, oppure guardie con un po' più di esperienza che naturalmente affiancono le nuove guardie per far vedere come si svolge un servizio, perché se ne diamo verbale male o se facciamo una notizia di reato male, più che al nostro scapito della figura che facciamo va a scapito la tutela e la difesa dell'animale stesso. Ovviamente qui entriamo, tra virgolette, in quelle che sono le dinamiche praticamente amministrative, legate ovviamente al vostro impegno, io lo chiamo impegno lavorativo, anche se, ripeto, ribadisco, è fatto in forma di volontariato. Enrico, quando hai scoperto di avere questa grande passione per gli animali in genere, che ovviamente differiamo, non sono solo magari cani e gatti, ma animali in genere, tutto tondo, quale possa essere il cavallo, piuttosto che l'ippopocamo, i maiali di turno, passimi termini. Quando hai scoperto di avere questa passione? 1982. Come? Dove, quando e perché? Come? Semplice, io mi ero appassionato di alcuni passerotti che vivevano vicino dove abito tuttora adesso, ero andato nell'associazione dove ero prima a fare la tessera, la classica tessera da socio. La classica adesione. La classica, appunto, adesione e tessera da socio. L'argomento era allora il mio mentore che mi ha spiegato le tipologie della salvaguardia degli animali, mi ha appassionato e sono rimasto in ufficio con lui. Da lì mi sono spostato a fare volontariato nel canile che era gestito da questa associazione e da lì poi ho fatto il mio percorso da guardia appassionandomi a tutti gli animali. Io sono anche vegetariano, sto cercando di fare un percorso vegano e quindi rispetto gli animali, diciamo anche l'animale che noi consideriamo da reddito e che viene messo nei nostri piatti, io lo rispetto e cerco naturalmente di rispettarlo sia da vivo ma purtroppo anche da morto non mangiandolo. Animali da reddito, hai detto una parola molto molto importante che va contestualizzata all'interno di un macello, tra virgolette giusto? In tal senso se non erro fate anche dei controlli per monitorare determinate situazioni legate magari alla macellazione piuttosto che a un traffico tra virgolette illegale? Lì dipende molto dal decreto prefettizio che abbiamo, la competenza primaria l'hanno i carabinieri forestali, il NAS dei carabinieri, il NOE dei carabinieri e la SL. Noi dipende dal decreto che la prefettura ci rilascia. Se abbiamo la competenza anche sugli animali da reddito possiamo fare determinanti tipi di controlli. Se abbiamo, e questo lo specifico, solo la competenza sugli animali tra virgolette d'affezione abbiamo la competenza sugli animali che possono essere il pig da casa, quindi il classico maialino vietnamita, il cane, il gatto, il furetto e tutti gli animali che sono considerati d'affezione e quindi vivono in maniera costante assieme all'uomo. Dipende dal decreto prefettizio che noi abbiamo, quindi ogni prefettura darà delle indicazioni, differisce normalmente dalle varie competenze, decide la prefettura le competenze che giustamente vuole darci e noi ci atteniamo al decreto prefettizio e non sgarriamo su quello neanche morti. Si ha la possibilità all'interno della tua organizzazione di specializzarsi magari in determinate branchi piuttosto che altre? Beh certo, la guardia naturalmente deve essere a 360 gradi, io ti devo chiamare per il cane sul balcone, per il gatto, per il negozio degli animali o altro. Poi è ovvio che all'interno, ma questo in base all'esperienza, possono esserci delle specializzazioni minime che ad esempio abbiamo delle guardie che sono bravissime sui cavalli, hanno fatto degli studi comportamentali sui cavalli e quando c'è un concentramento di animali che sono gli equidi, quindi cavalli, asini, poni o quello che sono, gli equidi, di solito c'è sempre questa guardia in prima linea. Io magari sono più specializzato, faccio un esempio stupido sui furetti, quindi qualora ci fosse un allevamento di furetti è ovvio che la prima guardia è sempre quella specializzata, poi le altre naturalmente sono brave ma ti seguono a fare quello che devi vedere. Molto importante in questo frangente la collaborazione del personale veterinario e delle ASLE competenti, giusto? Che comunque ha potere esecutivo, se non erro, a fronte di un vostro intervento o magari di un intervento suggerito dai cittadini, perché in questo caso i cittadini se non erro possono collaborare, interfacciarsi con voi a mero titolo magari. Assolutamente sì, il cittadino che ci fa la segnalazione. Noi collaboriamo con tutti i servizi veterinari che sono nel Piemonte, ma oltre che a collaborare con i servizi veterinari, noi a volte collaboriamo, quando abbiamo naturalmente delle segnalazioni specifiche, anche con i nostri veterinari privati, che comunque non saranno veterinari pubblici, però sono dei veterinari che possono sempre fare dei certificati. Ovvio che su alcuni concentramenti di animali noi collaboriamo con il servizio veterinario, che ringrazio proprio di la verità, fino adesso è sempre intervenuta con noi in situazioni abbastanza spiacevoli e particolari. Una sorta di sinergia, quindi collaborazione tra voi, forse dell'ordine, professioni civili, tutta una serie di cose. Ci deve essere, perché ricordiamo che sia l'istituzione pubblica, quella che comunque è pagata dallo Stato o comunque dalla pubblica amministrazione, sia i volontari, se non fanno una sinergia, ma si fanno battaglie, non ci saranno mai dei risultati. Che tipo di tutela offre, tra virgolette, la OIPA come organizzazione alle proprie guardie, ai propri volontari? Naturalmente noi siamo tutti assicurati, con una quota minimo di 20 euro abbiamo l'assicurazione che è prevista dalla normativa vigente, che la normativa vigente ha superato la vecchia 266 del 91, che è stata abrogata, ora c'è la nuova legge sul terzo settore, che è quella su volontariato, dove noi siamo obbligati ad avere un'assicurazione. L'assicurazione è la classica tessera da socio da 20 euro, più o meno di cos'è, normale perché non prevede la legge. Naturalmente abbiamo vettute le controterze e tutto quello che succede. C'è sempre molta riluttanza nel riconoscere in persone come voi un vero e proprio pubblico ufficiale, quindi colui che interviene laddove c'è un'emergenza vera. Come vi interfacciate con la gente, laddove non viene riconosciuta a livello mediatico, tra virgolette, ma dovuta all'ignoranza, passami il termine nel senso che la gente ignora il fatto che voi siate comunque competenti, ignora il fatto che voi facciate comunque dei corsi e quindi non riconosce momentaneamente determinate attribuzioni. Abbiamo diverse, prima di tutto ormai la TV e comunque il mass media danno importanza alle guardie azioni che sono, ormai diciamo che siamo conosciuti abbastanza bene. Naturalmente noi abbiamo il nostro decreto prefettizio. Se il cittadino non crede nella nostra qualifica, abbiamo un decreto, ti faccio e sono obbligato per legge a mostrare il decreto insieme al tesserino e distintivo, ti leggi il decreto. Sul decreto c'è scritta la mia qualifica. Se proprio il cittadino, diciamo così, non crede perché purtroppo in questi periodi si sono spacciati per tutti e per tutti per avere atti che diciamo così malavitosi, se il cittadino non crede o lui o noi, chiamiamo le forze di polizia, arriverà la forza di polizia che spiegherà le nostre funzioni. E con tutti i, tra virgolette, i particolari del caso. Naturalmente, poi alla fine la parola è loro. Enrico Piacenza, come si pone nei confronti dei suoi volontari e soprattutto in relazione ai cittadini? Beh, io cerco di essere con la massima cortesia con tutti. Naturalmente il nostro, essendo volontariato un po' particolare, come abbiamo detto prima, ricopriamo delle cariche di pubblici ufficiali e le mie guardie naturalmente le tengo un attimino sotto una lente, diciamo, di osservazione. Quindi devono, per una serie di testi unici di pubblica sicurezza, di organizzazione interna, naturalmente dare, quando viene chiesto, relazioni di servizio, quello quant'altro, prevede la legge. Sul lato personale, sul lato umano, dove finisce Enrico Piacenza coordinatore e dove comincia Enrico Piacenza uomo? Dovrebbero dirlo più loro che io. Eh, ma te lo sto chiedendo io. Diciamo che... Fai una sorta di analisi introspettiva. Ecco, un'analisi introspettiva. Allora, diciamo che quando sono Enrico Piacenza uomo, spero di essere anche simpatico e quindi si scherza sempre. Quando sono Enrico Piacenza coordinatore, naturalmente sono leggermente più, diciamo che pretendo una certa disciplina, un certo ordine. Ecco, non sono didattoriale, però pretendo una certa... un po' come se fosse un'organizzazione, comunque, tra virgolette, può essere una sezione dei vigili piuttosto che altro. Abbiamo delle regole e dobbiamo rispettarle. Quando invece svesto i miei panni, vabbè, allora si va tutti a mangiare la pizza insieme, a bere e alla bere, si scherza e magari naturalmente vengo anche, tra virgolette, in senso bonario, criticato su qualche volta, sulla mia autorità un attimino più specifica. Però, naturalmente, fa parte del gioco e io accetto quello che i miei mi dicono. Volevo mettervi al corrente di una cosa. Nonostante Enrico Piacenza sia a basso di statura, però voci mi hanno detto che è una persona molto, molto, molto autorevole. Io sono andato a spulciare un po' sul tuo profilo, mi sono permesso di chiedere alcuni tuoi stretti collaboratori, alcune informazioni su di te e mi hanno detto che nonostante tu sia piccolo di statura, però quando fai sentire la tua voce si sente, si sente, si sente. Ho una voce baritonale, grazie. Ho una voce baritonale, quindi. No, ma hai fatto bene, perché è anche giusto avere, perché è giusto perché avere delle informazioni. Però nella giusta maniera, mi hanno detto, è severo nella giusta maniera. Quindi, quando bisogna esserlo? Mai eccedere. Enrico, qual è il metodo più semplice per i cittadini per entrare in contatto con voi, sia a livello di segnalazione che a livello di semplice collaborazione? Beh, allora, in tutto abbiamo una sezione a Torino. Io posso dare a voce due indirizzi mail, che per quanto riguarda la sezione torino-oipa.org, per quanto riguarda le segnalazioni o il voler entrare a contatto del mondo delle guardie, è guardietorino-oipa.org. E per chi non fosse tanto ferrato a livello telematico, come fa a mettersi in contatto con voi? Allora, il mio numero è pubblico. Perfetto. Il mio numero è pubblico. Lascerò anche la mia email, che anche se non è telematico, comunque la lascio ugualmente, che guardi piemonte-oipa.org, quella è la mia, dove se arrivasse una richiesta d'asti, posso acquistarla alla coordinatrice di asti. E poi il mio numero di telefono è pubblico, basta mettere Enrico Piacenza su qualsiasi motore di ricerca, adesso il mio numero di telefono, però controllate gli orari, perché naturalmente mi telefono ad orari che io sono in ufficio, sono reperibile dalle 17.30 alle 20. Cosa molto importante, perché ricordiamoli, comunque ha un suo lavoro, ha anche una sua vita privata, quindi ovviamente compatibilmente a tutto questo riesce comunque a fare coincidere tutto. Spero, nella più breve, spero anche abbastanza bene, diciamo. Volevo recitarti questa bellissima frase che trovo veramente carina e soprattutto ottima da contestualizzare a quello che stiamo dicendo. Ogni forma di vita, in quanto vita, è sacra. L'uomo giusto è colui che quando trova un verme che si è smarrito dopo un temporale e si sta seccando sull'asfalto, lo rimette nell'erba, senza chiedersi di quanta intelligenza sia dotato. Lo salva perché è vivo ed è la vita, è sacra. Bellissimo. Cosa ne pensi di questo? Bellissimo. Stiamo parlando ovviamente di un verme, quindi vero male l'animale... Meriterebbe un applauso, che adesso non mi sembra il caso di fare, anche perché non c'è la clac, però bellissima ed è giusto, ogni forma di vita è sacra, qualsiasi forma di vita. Quindi OIPA rispetta a tutti gli animali, a cominciare dal più piccolo al più grande e naturalmente ovviamente al rispetto dell'uomo in relazione all'animale stesso. Citerei anche Einstein, che naturalmente ha detto che un mondo senza api, che è un animale piccolo ma molto importante, se le api sparirebbero il mondo non ci sarebbe più. Quindi non diamo importanza alla grandezza dell'animale, ma diamo importanza all'animale stesso e alla sua vita. Enrico, brevemente, OIPA perché? OIPA perché è stata una scelta fatta anni fa, mi è piaciuta l'associazione, ho parlato con loro e mi ha affascinato appunto anche l'aspetto internazionale e sono entrato in OIPA. Convincimi del fatto che io debba scegliere OIPA? Ma io non è che debba convincere nessuno, io dico andate sul nostro sito, andate a vedere quello che facciamo, andate a vedere le newsletters, quello che abbiamo fatto anche come ultime operazioni nel torinese, oppure fuori, non devo convincere io, è una scelta che viene dentro, è una scelta che dovete vedere. Il ragionamento veramente interessante è quello che mi aspettavo, perché lui non deve convincere nessuno, ma sicuramente a me ha convinto la sua gioia, il suo interesse, la sua verve, chiamiamolo così, e soprattutto il suo entusiasmo nell'affrontare determinate cose. Abbiamo parlato con Enrico Piacenza, il coordinatore della OIPA a Piemonte, è stata veramente una bellissima chiacchierata, molto sentita, soprattutto perché il sottoscritto possiede un cane che ha recuperato da una situazione molto difficile, e pertanto per adesso ci congediamo. Grazie Enrico, io naturalmente vi rimando alla prossima puntata. Da Fabrizio è tutto, grazie, buona giornata, ciao! Grazie a tutti!